Con Luca Filicetti una gara difficile oggi in cui avete dovuto affrontare un avversario forse un po' avanti dal punto di vista della condizione rispetto a voi, però comunque il risultato che comunque conta poco e prestazione che cosa c'è da salvare? Penso che la prestazione allunga il dia del risultato è stata buona, si sono visti dei margini di miglioramento da quando abbiamo iniziato il ritiro, questa è la cosa che a noi interessava più di tutti, a tratti abbiamo fatto anche delle buone giocate, belle cose, quindi alla fine penso al di là del risultato possiamo essere soddisfatti ma c'è ancora da lavorare e da migliorare. Dove secondo te bisognerebbe agire il reparto che magari è stato più in difficoltà rispetto a Donato? Questa è una cosa che non aspetta a me decidere, però credo che tutti dobbiamo sempre, c'è sempre da migliorare, non c'è un reparto ben preciso, siamo 20 giocatori, quindi tutti e 20 dobbiamo fare qualcosa per migliorare. Il campionato si presenta con delle avversarie sicuramente molto difficili da affrontare, la prima sarà Debole, poi ci sarà Lecirreale, come affronterete adesso questo periodo che ci separa da qui all'inizio della stagione del campionato? Intanto dobbiamo lavorare, trovare la condizione ottimale al massimo, già stiamo crescendo tanto e al di là degli avversari che incontreremo dipende da noi, sappiamo che è il valore che abbiamo, dobbiamo solo rimboccarci le maniche e cercare di migliorare giorno dopo giorno. Grazie. 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 Grazie a tutti.